a buona a dimmi quando siamo in onda è in onda ma buongiorno cari telespettatori benvenuti a como questa ridente cittadina che parrebbe risvegliatasi proprio grazie al natale alla mia spalla ecco il bellissimo lago di como como scusi mi sta impallando la camera ah mi scusi non fa niente non fa niente approfittiamo di questo gentile signore venga 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 qua lei il signor turati molto piacere permette una domanda signor turati cos'è il natale la nave no la nascita di la nascita di gesù ah si 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 è vero forse come più cultura meno muri più cultura la cultura unisce le persone i muri le dividono cultura unisce muri dividono e su questa frase che vorremmo farvi riflettere le stupide creature vi augurano un buon natale perché senza di te che natale è che davanti prima non 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 ti asi